Devo fare congratulazioni ai miei giocatori perché hanno giocato una partita solida per tutti i 45 minuti su un campo difficile contro una squadra veramente una buona squadra che gioca un'ottima palla canestro credo che hanno eseguito benissimo il piano partita soprattutto nel limitare i loro tiri da tre punti solitamente lo fanno con il 45%, stasera hanno chiuso col 16% e devo dire che ho avuto un contributo da tutti i giocatori e questa è una vittoria importante per come è arrivata e soprattutto perché poi siamo stati nell'esecuzione per tutti i 40 minuti mostrando anche una difesa ripeto alternandola molto difficile Nantera è una squadra che apre molto il campo, una squadra che ha tanti tiratori e invece ha avuto risposte importanti da tutti ci portiamo via naturalmente una cosa molto importante che è un obiettivo raggiunto che è la qualificazione ai playoff di Champions con un turno di anticipo credo che il secondo posto sia matematico, non lo so, ma comunque ho giù di lì vorrei dedicarla a tutti i nostri tifosi in particolare a quelli che ci hanno seguito anche fino a qua tutti i tifosi che ci amano perché credo che sia importante gioire di questi risultati come essersi qualificati alla Coppa, essersi qualificati adesso per i playoff in una Coppa così difficile, in un girone così duro perché credo che la Reier sia un modo di essere sia un modo di vivere e quindi va sempre sposata quindi la dedico a tutti questi e a noi dello staff e ai giocatori adesso ci rimbocchiamo le maniche, recuperiamo e pensiamo alla prossima Grazie 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 Grazie